Ciao amici di Fantapaz, un nuovo video sulla Roma di Ranieri, naturalmente la notizia del giorno, in realtà di ieri ma comunque oggi è stato presentato e ha detto anche cose molto interessanti, insomma, ha parlato anche di Dybala, che Dybala giocherà sempre quando sta bene, insomma lo ritiene giustamente, probabilmente il miglior giocatore della Roma a disposizione. Questo è il 3-5-2, che può essere un'opzione, ha anche parlato in realtà come fanno molti allenatori, nel senso di moduli a 3, a 4, a 5, a seconda delle circostanze, lui l'anno scorso soprattutto nel Cagliari ha giocato molto a specchio con le altre scuole, però chiaramente era una squadra neopromossa che lottava per la salvezza, insomma la Roma è di una cifra tecnica indubbiamente superiore, anche se l'ha dimostrato poco in queste partite, però i giocatori che sono sono sicuramente di altro livello. Ha parlato anche di Hummels, Hummels potrebbe giocare molto di più, per questo l'idea del 3-5-2 potrebbe avere senso, secondo me verrà rispolverato molto cristante, vedremo leggermente meno pisilli, non perché abbia fatto male, ma perché magari più su giocatori di esperienza, quindi appunto Hummels, sta per tornare a sale Makers, che insomma tornerà probabilmente non col Napoli, ma nella partita successiva con l'Atalanta, come detto di Baladobic, quindi su Le giocherà comunque spesso, secondo me, sia se sarà 3-5-2, sia se sarà 4-4-2, questo diciamo è il 3-5-2 con Mancini, Hummels, Dica, sale Makers appena tornerà a destra e Anghelino, il Sharawi a sinistra, con l'opzione anche per, in realtà per entrambi, sia per sale Makers che per il Sharawi di poter giocare anche sul lato opposto, anzi a volte il Sharawi si trova meglio sul lato destro e c'entra un po' con E, Cristante Pellegrini, potrebbe anche rientrare in gioco Paredes e appunto, come detto, Pisilli e davanti di Baladobic con su Le, c'è anche Baldanzi, che insomma potrebbero essere le due alternative, questa però secondo me è l'opzione meno valida, anche se come ho detto giocherà molto a specchio, quindi potremmo anche vedere spesso questa opzione, l'altra opzione potrebbe vedere, come vedete, il 4-4-2 che lui ha utilizzato molto al Cagliari, ha utilizzato storicamente insomma dall'Eister che vinse nella Premier League, ma insomma è un modulo che a Ranieri piace molto, è vero che sono passati comunque un po' di anni, quindi il calcio si è evoluto, il 4-4-2 viene quasi visto come un modulo vecchio, in realtà poi dipende sempre, sono numeri in campo, poi dipende sempre come si muove la squadra e il 4-4-2 potrebbe avere senso soprattutto in questo caso con Mancini spostato a destra e l'Ummels titolare al fianco di Indica, con Anghelino a terzino sinistro, appunto Salemekers e del Sharawi questo perché Salemekers comunque ha delle qualità che nessuno è rosa nella Roma, insomma è capace di saltare l'uomo, come magari anche il Sharawi ma ha anche una qualità, una benegrazione difensiva, una capacità di partire per la riaggressione già nella metà campo avversaria che nessun altro esterno della Roma ha, c'è anche Zaleski, come detto come opzione, non è da escludere neanche che in qualche caso possa giocare qualche giocatore un po' spostato sulla destra per fare il 4-8-2 perché comunque lui lo ha fatto anche nel Cagliari dove utilizzava sicuramente Nandez, sicuramente Augiello magari avanzato, Azzi, Youngto che comunque è una mezzala che ha giocato anche sul lato sinistro ma giocava a volte sul lato sinistro quindi volendo si potrebbe adattare anche qualcuno in maniera diversa se dovessero mancare dei giocatori e davanti appunto Dibalo sulle quando Dibala sta bene penso che giochera sempre lui con Daovic davanti e in questo caso con il 4-4-2 ci sarebbe un dualismo tra Pellegrini e Cristante soprattutto, abbiamo detto di Paredes, di Pisilli però potrebbe esserci questo dualismo e secondo me comunque Ranieri è un allenatore che anche perché la Roma in questo momento ha preso da tantissimi reti ed è una squadra messa in difficoltà nonostante Svilar comunque abbia fatto tranne un paio di casi quasi sempre partite notevoli, Dica è stato nettamente il miglior difensore forse tranne le ultime due partite ma insomma è stato sempre molto valido l'esperienza di Hummels servirà, Mancini ha avuto qualche passaggio a vuoto Anghelinio come centrale lui ha detto quasi che non lo schiererà più come braccetto di sinistra poi chiaramente in caso di necessità probabilmente accadrà lo stesso, c'è comunque anche Hermoso e come esterni effettivamente c'è Abdul Hamid e c'è Dal dall'altra parte quindi è un po' difficile vedere qualcun altro in quelle situazioni indica comunque si potrebbe attare come terzino, lo stesso Hermoso volendo potrebbe attarsi come terzino secondo me questo è il modulo che vedremo più spesso soprattutto quando appunto tornerà sale Makers e giocherà in questa maniera chi sale naturalmente Hummels perché insomma non sappiamo per quale motivo insomma con Juric non si sono presi credo che indica perché comunque Ranieri anche al Cagliari e comunque anche in passato ha sistemato la difesa quindi sia Svila che dovrebbe subire meno reti, Dica dovrebbe tornare sui suoi livelli e quindi una difesa più bloccata e meno esposta, insomma più controllata è una difesa che è il punto forte iniziale di Ranieri per cercare di scalare posizioni senza magari pensare adesso in questo momento all'Europa che è molto lontana ma insomma l'idea è quella di cominciare a fare punti, a cercare di recuperare sulle... a cercare di togliersi insomma dalle zone difficili e di guadagnare posizioni per eventualmente sperare in una conferenza o addirittura in Europa League anche se il distacco per il momento è veramente ampio con è assolutamente e indubbiamente il titolare come detto sale Makers ma probabilmente sarebbe salito con qualunque altro allenatore che può essere veramente fondamentale in quella zona e il Sharawi io credo che al di là della doppietta con il Bologna potrebbe crescere sicuramente e come detto Dybala quindi su Le lo vedo molto anche lui lo ha detto, ha detto che potrebbe anche giocare insieme però sarà difficile perché insomma lo sappiamo dall'inizio dell'anno c'è comunque anche Baldanzi che per un certo periodo è stato molto importante però sicuramente Dybala verrà schierato spesso e sarà comunque un punto fermo quando starà bene quindi diciamo per dirla comunque se avete Hummels è il momento assolutamente da tenere e se avete anche sale Makers e anche se avete Cristante secondo me è un giocatore che magari avevate pensato di venderlo invece lui secondo me potrebbe anche Cristante lo sappiamo non è un giocatore molto amato da tanti romanisti però è un giocatore che secondo me con un baricentro un po' più basso che in effetti poteva avere anche Juric ma poi Juric evidentemente non è riuscito a farsi seguire per bene dai suoi giocatori Cristante potrebbe comunque secondo me giovarne dall'essere allenato da Ranieri con una squadra comunque molto più accorta che non andrà avanti si affiderà soprattutto ai giocatori offensivi per cercare di fare le azioni offensive appunto e quindi una squadra un po' più con un baricentro leggermente più basso secondo me Cristante potrebbe giovarne tantissimo questo è l'idea della Roma in questo momento chiaramente è in evoluzione vediamo la prima partita però penso che più o meno sarà su questo su questo tipo di schema e su questo tipo di atteggiamento vi ringrazio di aver visto il video naturalmente se vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo a un prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti